Alcune foto dal set della nuova stagione della casa di carta stanno facendo sognare i fan. Che sia arrivato il momento della nuova stagione su Netflix? Prima di continuare ricordate di iscrivervi al nostro canale e cliccare sulla campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati su tutta la produzione di Evriai Plus. Il successo della casa di carta su Netflix è ormai mondiale. Dopo 4 stagioni che hanno catturato il pubblico, la serie sta per tornare con la quinta ed ultima parte. Il profilo ufficiale di Netflix Italia ha pubblicato delle foto che sembrano suggerire un riavvicinamento tra due personaggi dello show. Stiamo parlando di Alvaro Morte e Pedro Alonso, che appaiono insieme in uno scatto direttamente dal set della quinta stagione. I due, che interpretano rispettivamente il professore e Berlino, come si può vedere nell'immagine, sorridono all'obiettivo. La foto lascia intendere che nei futuri episodi potrebbero esserci scene con i due personaggi forse più amati della casa di carta. Nella didascalia del post c'è scritto che la foto di Alvaro Morte e Pedro Alonso sul set è per ricordare che qualsiasi cosa accada arriverà alla quinta stagione della casa di carta. In molti non vedono l'ora di scoprire cosa riserveranno le nuove puntate della serie Netflix. Come già annunciato, infatti, giungerà la sua definitiva conclusione con la quinta season. La serie creata da Alex Pina è al momento la produzione non inglese più vista sulla piattaforma streaming. I ritardi, dovuti alla pandemia, hanno certamente creato qualche problema, ma si spera che i nuovi episodi non si faranno attendere ancora a lungo. Sembra ormai quasi certo che potremo vederli entro la prima metà del 2021. Voi avete visto i nuovi scatti? Pensate davvero che la quinta stagione uscirà quest'anno? E come finirà la casa di carta? Provate a dircelo con un commento qua sotto.